La campagna fa registrare un altro picco di nuovi casi covid, sono 3.186 quelli comunicati dall'unità di crisi, oltre 18.000 invece i tamponi processati, un incremento che preoccupa e che viene sottolineato nella consueta diretta del venerdì anche dal governatore De Luca. Stiamo lavorando per moltiplicare i posti in terapia intensiva ma non possono essere illimitati. Poi De Luca torna a parlare di Ariano e in particolare del frangipane. L'ospedale del Tricolle, dove stamattina è arrivato il nuovo personale proprio per far fronte all'emergenza, ha da poco riconvertito il reparto di medicina e il reparto covid. 12 posti letto già occupati ma che hanno fatto sollevare non poche polemiche. Gli ospedali covid torneranno alla normalità passata la pandemia, ha però ribattuto il governatore. Si sono fatte scelte dolorose ma indispensabili. quando tu arrivi di fronte a questa alternativa o riorganizzi anche i reparti e crei ospedali covid oppure hai i malati per terra e rischi di avere tuo padre o tua madre che rimane a morire in un'ambulanza in un'ambulanza perché non c'è un posto letto in ospedale. O facciamo queste scelte o rischiamo di avere quelle conseguenze drammatiche. Vorrei che questa alternativa fosse chiara a tutti quelli che parlano. Allora si sono fatte alcune scelte che voglio chiarire subito. Sono scelte transitorie. Mi ha chiamato il sindaco di Cava dei Tirreni. È chiaro che appena passa l'onda del covid gli ospedali ritornano alle funzioni originarie. La stessa cosa accadrà a Solofra, la stessa cosa all'ospedale di Ariano Irpino appena finisce si ritorna alle funzioni originarie. Ricordo ad Ariano che il DEA di secondo livello rimane in piedi e lo abbiamo realizzato noi, non le chiacchiere di qualcun altro. Lo dico perché non manca mai qualcuno ad Ariano che deve fare demagogia. Ne approfitto ancora per salutare e ringraziare i cittadini di Ariano Irpino per la prova di civiltà e di senso di responsabilità che hanno dato. Hanno fatto una cosa straordinaria. La stragrande maggioranza dei cittadini di Ariano si è sottoposta al tampone, al controllo sanitario. Non è accaduta la stessa cosa ad Arzano.